Messaggio dalla Federazione Galattica di Luce attraverso Greg Gilles, 21 aprile 2012. Traduzione Raggio di Luce Verde. Siete molto curiosi, ora facciamo un passo in più nel ruolo, che i prossimi eventi giocheranno. Apprenderete nuove competenze e applicherete ciò che avete imparato nel corso di molte incarnazioni consecutive, e applicherete queste capacità dove necessario e in settori, che possono trarre vantaggio della vostra esperienza e le vostre capacità di leadership. Lungo tutto il vostro percorso avete appreso importanti abilità, che avete considerato abbastanza importanti al fine di apprendere gran parte delle lezioni nelle varie incarnazioni. Le vostre abilità sono state sviluppate con il fine di essere utilizzate per il periodo di tempo, che ora vi trovate davanti. Utilizzando le competenze, che avete imparato e applicandole ai compiti a portata di mano oggi è quello che dovreste fare per voi stessi. Noi, la Federazione Galattica di Luce, non abbiamo intenzione di scendere giù tra di voi e di guidarvi a fare i compiti più adatti a voi e spiegarvi che cosa c'è da fare per portarli a termine. Ciò è per un motivo e uno scopo più alto, e sta a voi scoprire di che cosa necessitate per il vostro bene. Spetta a voi capire come applicare le vostre capacità e assistere i vostri simili nel loro tempo di ascensione. Capiamo che molti di voi in questo momento stanno vivendo perplessità e dubbi su che cosa potete fare, e noi vi chiediamo che cosa è che volete fare. Che cosa è che potete fare? Che cosa è che sapete fare bene? In quali settori potete fare la differenza? Verso quali compiti vi sentite attratti? Queste domande sono quelle che vi condurranno alle risposte che cercate. Vi aiuteremo a trovare queste risposte, questo è ciò che faremo, ma non vi daremo risposte, questo è ciò che non faremo. Nessuno in questo momento ha trovato la propria nicchia e ha scoperto che è proprio quello che potevano fare e che noi gli abbiamo dato come risposta. Invece, hanno preso l'iniziativa e hanno seguito la loro voce interiore per portare avanti il compito che oggi stanno realizzando. Ecco come deve essere per ognuno di voi, e vi diciamo che è arrivato il momento per voi di cercare attivamente le vostre posizioni per meglio assistere l'umanità e il pianeta in questi giorni molto importanti. Molti di voi stanno cercando una guida per queste risposte e questo è ciò che state ricevendo in questo momento, una guida, ma ancora una volta, non riceverete le risposte in quanto non vi saranno offerte. Abbiamo chiarito in molte occasioni che questo è il vostro show. Voi siete i produttori, gli amministratori, gli attori, voi siete i macchinisti, e voi siete anche il vostro pubblico. Questa intera produzione è vostra, appartiene a voi, e noi comprenderemo e onoreremo sempre questo. In alcun modo non oltrepasseremo i nostri limiti né vi daremo risposte a tutte le vostre domande, questa è una linea, che non passeremo mai. Potete farlo voi stessi, ognuno di voi. Siamo qui solo per aiutarvi in questioni, che non avreste potuto gestire pienamente voi stessi, ma non siamo qui per completare attività per conto vostro che in grado di affrontare completamente da soli, e scoprire che cosa è che potete fare per servire l'umanità in questo momento è anch'esso un compito che siete in grado di portare avanti da soli. Non avete bisogno del nostro aiuto per questo compito. Vi diciamo di guardare dentro, pensate a una delle cose, che avete imparato in questa vita. Pensate a tutti i talenti, che avete acquisito. Pensate ad alcuni dei lavori, che avete praticato in questa incarnazione. Avete ricevuto una formazione per questi lavori? Che cosa comporta questo tipo di formazione? Che cosa hai imparato a fare che non sapevi fare prima di questo lavoro? Vedete questo come un indizio per una abilità, che potrebbe essere necessaria in seguito nella vostra vita? Vedete ogni lavoro, che avete fatto come un semplice elemento casuale di un'esperienza inutile? Parlandovi così tanto di quello che avete sperimentato è per una buona ragione e per uno scopo molto particolare. Capite questo, conoscendo questo, tornate indietro attraverso le pagine della vostra vita ed esaminate più da vicino la storia raccontata. Dove siete stati leader? Che abilità avete imparato? Sono alcune di queste abilità, che avete appreso collegate in qualche modo? Possono alcune delle abilità, che avete imparato essere applicate tutte in una volta in una sola posizione? Avete amici e familiari, che svolgono certi lavori, e potrebbe questo essere in qualche modo un segno per voi dove potete applicare meglio i talenti, che avete imparato per aiutare l'umanità nel percorso per l'ascensione? Ci sono in questo momento così tante aree in cui le persone possono beneficiare della vostra assistenza. Sono dappertutto, e ci sono molti campi correlati in cui potete applicare i talenti e le abilità, che avete acquisito durante le vostre molte vite e farei la differenza nelle vite di queste persone. Possono queste persone intorno a voi essere assetate di conoscenza e comprensione? Stanno soffrendo per gli effetti della paura e della confusione? Hanno problemi di salute? Potrebbero beneficiare di guarigione? Possono beneficiare di migliori intese e pratiche nutrizionali? Queste sono domande, che potete porvi per esaminare coloro che vi circondano. Queste sono domande, che potete porvi mentre riflettete su tutti coloro che conoscete e avete incontrato attraverso le vostre comunità online. Ci sarà un aumento di persone, che potranno beneficiare di assistenza, e cercheranno un orientamento in molti settori. Sarete chiamati alla ribalta per essere lì per queste anime, e sarete una guida nella loro vita. Avete ancora tempo per trovare ciò che sapete fare bene, e avrete un sacco di possibilità per applicare queste capacità e per adempiere ai doveri del vostro contratto di luce. Non è troppo tardi e non avete perso nulla, potete starne certi, e sapendo questo aiuterete anche voi stessi a trovare uno stato di calma ed un equilibrio nelle emozioni in cui potete più chiaramente riflettere i vostri talenti e le vostre capacità interiori e dove potete applicare meglio questi doni. Non vi è alcuna necessità o richiesta di un senso di urgenza, ma vi diremo che il tempo per rispondere alla vostra chiamata è su di voi. Noi speriamo solo, che voi possiate affrontare questa questione e ogni altra in uno stato emotivo rilassato, calmo ed equilibrato, poiché questo stato aumenterà notevolmente le vostre abilità in ogni modo. Questo è qualcosa che desideriamo che voi teniate sempre a mente, non importa ciò che si presenta a voi. Nulla potrà o arriverà facilmente a voi se non siete in uno stato di equilibrio. Le risposte vi sfuggiranno, una migliore capacità di giudizio vi lascerà, e il modo giusto di affrontare i vostri compiti vi abbandonerà, se si procede in uno stato di squilibrio. Ci saranno nei giorni a venire ruoli offerti in campi, che in questo momento non siete pienamente capaci di affrontare. Ci sono molti ruoli differenti, che dovranno essere colmati, e ciascuno di voi avrà la possibilità di interpretare uno di questi ruoli, sulla base della vostra esperienza e la vostra disponibilità a imparare una nuova abilità. Noi al momento opportuno divulgheremo appieno queste opportunità, e che cosa potete fare per realizzare i vostri desideri, che noi conosciamo e che siete interessati a uno di questi ruoli. Abbiamo molti progetti ai quali lavoreremo con voi, e molti di voi leggendo queste parole lavoreranno al nostro fianco nella realizzazione di tali compiti. Cosa scegliete di fare con queste opportunità sta interamente a voi, e servirà solo a rendere queste opportunità disponibili a voi e non insisteremo o vi convinciamo a prendere decisioni, ogni decisione dipenderà da voi. Sappiate che ogni scelta, che farete da questo momento in avanti sarà interamente una vostra decisione, e noi non influenzeremo minimamente il processo decisionale per qualsiasi cosa. Potrete godere di una completa libertà nel corso dei prossimi giorni e mentre lavorerete con noi, e nulla di ciò che farete non accadrà che per vostra scelta. Ecco come sarà e non ci sarà nessun altro modo, in quanto questo è il vostro mondo e questo è il vostro percorso, e sta tutto a voi. Come abbiamo detto fin dall'inizio, non siamo qui per dare ordini, non siamo qui per dirvi cosa fare e quando farlo, e noi non siamo qui per dire che questo avverrà in questo modo, e questo sarà così. Siamo qui per aiutarvi a modellare, formare, e creare il mondo in cui desiderate vivere, ma questo mondo è vostro e noi capiremo questo e lo rispetteremo sempre. Siamo qui solo per offrire il nostro aiuto se volete rendere la Terra un posto migliore in cui vivere per tutti voi. Alcuni di voi attraverseranno la transizione verso la quinta dimensione ed anche oltre, e diciamo voi per aiutarvi con questa transizione, di eliminare gli aspetti della vostra vita, che servono a portarvi giù nelle dimensioni inferiori. Vediamo molti di voi alle prese con alcuni di questi aspetti della vostra vita, e noi possiamo solo aiutarvi ad alleviare questi modelli e abitudini, offrendovi una consulenza e una guida per condurvi su un nuovo percorso che vi porterà a più alte destinazioni rispetto ai sentieri, che state percorrendo al momento. Lasciare un percorso e iniziarne un altro richiede grande sforzo e grande determinazione e forza di volontà, non potremmo far finta per un momento, che non sia così e che questo è un compito facile. Tutti noi qui nei Regni Superiori ad un certo punto abbiamo fatto questo cambiamento, questo cambiamento da un percorso a un altro, e vi diciamo che le ricompense per fare questa scelta sono grandi ed saranno valsi tutti gli sforzi necessari per raggiungere questo obiettivo. Potete farlo, sappiamo che potete, e vi offriamo una guida e la direzione per condurvi in questa direzione. Che cosa pensate sia in atto in questo momento per appesantirvi e sommergervi all'interno della tre dimensione? Di che cosa desiderate liberarvi nella vostra vita, e che non serve per il vostro bene più grande? Dov'è che vorresti essere, e che cosa ci vorrebbe per arrivarci? Cosa potete fare oggi che vi porterà ai primi passi della vostra nuova vita? Quali aspetti della vostra vita o di voi stessi possono trascinarvi giù come una pesante ancora? Vedete quello che è nella vostra vita di oggi che agisce come questa ancora? Vedete lo slancio che potete guadagnare attraverso il rilascio di ciò che vi trattiene? Durante il vostro percorso, noi dei regni superiori, chiagendo come guide abbiamo tentato di far brillare la luce su ciò che ha agito per tenervi indietro. Noi, naturalmente, non possiamo rimuovere questi ostacoli per voi, questo è il vostro compito. Possiamo solo lavorare per mettere in evidenza questi aspetti di voi stessi e permettervi di vedere più chiaramente ciò che vi pesa. Cosa scegliete di fare dopo che la luce ha brillato su queste cose dipende da voi. È la vostra vita, ed ogni scelta è vostra. Come vostre guide, abbiamo fatto accordi con voi prima dell'Incarnazione e ci atterremo a questi accordi parola per parola, lettera per lettera. Non oltrepasseremo i nostri limiti per non fare in modo che voi non traiate benefici, ed è ciò che è per il vostro bene più grande, che ci interessa di più. Aiutateci ad aiutarvi e faremo tutto il possibile per aiutarvi a svolgere i compiti e raggiungere gli obiettivi, che avete impostato da soli prima di entrare nei regni fisici attraverso la nascita. Aiutateci a vedere più chiaramente che cosa volete realizzare, e faremo tutto il possibile per guidarvi in questo cammino. A volte è difficile per noi capire chiaramente che cosa volete e che cosa desiderate fare. E' possibile comunicare più chiaramente con noi di quanto si pensi, e noi vi diciamo oggi che vi stiamo ascoltando e vi vogliamo sentire e che rendiate a noi noti i vostri desideri. Avete la nostra parola, che faremo tutto il possibile per guidarvi lungo un percorso, che si sceglie finché capirete chiaramente dove volete essere. Se è qui con noi nei regni superiori, allora faremo tutto il nostro potere per guidarvi lungo il percorso, che vi porterà a questa destinazione. Ci sono e ci sono stati momenti della vostra vita, che potreste aver sentito l'intervento divino, e vi diciamo di seguire i vostri propri istinti e ascoltare la vostra voce interiore, perché in realtà siamo intervenuti e c'è stata una mano tesa per guidarvi. Molti di voi hanno sentito questa mano e continueremo a far sentire la nostra guida nel corso dei prossimi giorni. Mai prima d'ora nella vostra vita noi, le vostre guide, i vostri amici e la vostra famiglia dei regni superiori abbiamo lavorato in modo più attivo per comunicare con voi, per guidarvi, per offrirvi consulenza e assistenza, mentre vi fate strada attraverso i meandri della fine del vostro lungo viaggio, e opportunamente, mai prima d'ora c'è stato un tempo in cui è stato più importante per voi e ascoltare, guardare e sentire i nostri consigli, per guidarvi, di quanto lo sia oggi. Riuscite a sentirci qualche volta? Riuscite a sentirci? Noi siamo qui, e se è qui che volete essere, abbiamo steso la nostra mano a voi per aiutarvi a sollevarvi. Prendete la nostra mano, abbiate fiducia in noi. Sappiate che noi vi amiamo e desideriamo solo ciò che è meglio per voi e ciò che desiderate per voi stessi. Solo questo vi offriremo e niente di più e niente di meno, perché è la vostra vita e il vostro percorso, e siamo le vostre guide lungo il cammino. Siamo la Federazione Galattica di Luce. Canalizzato attraverso Greg Giles.